Evento conclusivo per gli stati generali della salute, una guida per costruire concretamente la sanità toscana dei prossimi anni. Il Consiglio regionale ha approvato il nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate che prevede la cessione del pacchetto di maggioranza di fidi toscana. Approvata all'unanimità una proposta di legge per inserire nello statuto della regione toscana un forte richiamo all'antifascismo e alla promozione della memoria della resistenza. Stati Generali della Salute, il Vademecum per i prossimi anni. Una guida per costruire concretamente la sanità toscana dei prossimi anni, redatta ascoltando tutti gli interessati, cittadini, associazioni, professionisti, amministratori locali. E' questo il risultato degli stati generali della salute in Toscana, un percorso partecipativo durato un anno organizzato dalla Commissione regionale Sanità che ha prodotto una proposta di risoluzione che affronta i principali nodi del tema salute ed elenca gli obiettivi da raggiungere. L'unidì si è svolto l'evento conclusivo degli stati generali, un momento di confronto al teatro della Compagnia di Firenze a cui ha preso parte il Ministro della Salute Roberto Speranza. Un momento per capire come il Covid ha cambiato la sanità e qual è la situazione attuale. Io sono orgoglioso della nostra sanità, della sanità toscana, un modello per tante altre regioni. Oggi essere qui vuol dire vogliamo migliorarci, sappiamo che abbiamo fatto un bel pezzo di strada importante ma dobbiamo lavorare per investire in nuove tecnologie, investire in nuovo personale, abbiamo bisogno di nuovo personale, costruire un modello dei piccoli ospedali perché nel futuro abbiamo sempre più bisogno di territorialità ma ripensando il modello degli ospedali di prossimità e poi gli investimenti sulle case della salute, sul territorio. Non basta con le risorse del PNR costruire le infrastrutture, ora serve riempire quelle infrastrutture di servizio ai cittadini perché abbiamo un grande e unico obiettivo, offrire lo stesso livello di servizi sia a chi vive in un piccolo borgo delle montagne toscane sia a chi vive in una grande città della Toscana. Il presidente della regione Gianni ha tracciato le linee guida per il futuro. La sanità in Toscana è un'eccellenza, quello che dobbiamo lavorare per il futuro è il territorio e quindi avere oltre che gli ospedali così come si manifestano con tanto impegno e passione da parte degli operatori, dobbiamo avere anche dei presidi, quelle che finora abbiamo chiamato le case della salute, che con gli ambulatori, la medicina generale, la diagnostica possono dare risposte che in qualche modo tamponano la corsa che altrimenti quando uno ha la febbre a 39 lo porta subito direttamente a pronto soccorso. Noi sotto questo aspetto abbiamo le risorse del PNR e sotto questo aspetto in 77 case della salute interverremo o per ristrutturare, risistemare, allargare quelle esistenti o per farne delle nuove. Il vicepresidente della Commissione Sanità Ulmi si è soffermato sulle case di comunità che rischiano di restare cattedrali nel deserto se non si troveranno risorse per aumentare il personale. La sanità in Toscana deve innanzitutto avere una medicina territoriale completamente diversa dall'attuale e va bene che il PNRR dia soldi per costruire le case di comunità, ma queste case di comunità sono fisiche, noi dobbiamo inserirci dentro dei medici, quindi il PNRR manca dei soldi per metterci dentro i medici, quindi o li troviamo o se no saranno cattedrali nel deserto. Irene Galletti ha parlato di criticità e priorità. La prevenzione, la sanità territoriale, la prevenzione anche per quanto riguarda la salute mentale, specialmente dell'infanzia e dell'adolescenza, il cercare di evitare a tutti i costi lo slittamento dalla sanità pubblica alla sanità privata, la tutela degli operatori sanitari, sono tutti aspetti che finalmente hanno trovato il loro focus. Il consigliere Petrucci si è soffermato sugli aspetti che a suo avviso non vanno. Se c'è un tema sul quale non è possibile trovare un accordo con chi ha governato così male per così tanto tempo la regione Toscana è proprio la sanità che è stata soprattutto oggetto di conquiste elettorali in tutti questi anni da parte della sinistra. Dobbiamo cambiare completamente la struttura, il metodo di governo della sanità, il metodo di nomina dei direttori generali, dei primari e capire che cosa sta succedendo appunto in questo ambito dove il tema è dare delle risposte a delle clientele anziché dare delle risposte a dei pazienti che hanno bisogno. Società partecipate, sede l'aula al nuovo piano di razionalizzazione. L'aula di Palazzo del Pegaso ha approvato il nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate che prevede la cessione del pacchetto di maggioranza di Fidi Toscana in modo da assicurare il controllo della società entro febbraio 2023. Con votazione per appello nominale su 33 votanti, 21 consiglieri si sono espressi a favore e 12 contro. Il piano, come illustrato dal presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani, è frutto delle indicazioni scaturite dal dibattito consigliare effettuato sulla nuova mission di Fidi Toscana con l'obiettivo di mantenere una rilevante presenza della regione nella compagine societaria. Allo stato attuale l'avviso di manifestazione di interesse è in corso di definizione e si presume che possa essere reso pubblico già nelle prossime settimane. Si tratterà di una sorta di prima esplorazione di mercato, con la conseguente selezione pubblica da svolgere in tempi rapidi e con particolare attenzione all'imprescindibile mantenimento dei livelli occupazionali. Il nuovo processo di razionalizzazione interviene anche su sviluppo Toscana e prevede al 31 agosto prossimo la valutazione ed approvazione del nuovo piano industriale da parte della Giunta e dentro alla fine dell'anno l'acquisizione di tutte le azioni SICI sviluppo imprese Centro Italia. L'indirizzo emerso a concluso Bugliani è quello di sviluppare un unico soggetto, ovvero sviluppo Toscana con il rilancio di Fidi. Da una parte si è registrata la volontà della costruzione di una unica società in house della regione Toscana che si occupi della programmazione dello sviluppo economico della regione, concentrando in sviluppo Toscana questa funzione. Dall'altra parte però c'è la prospettiva contestuale all'alienazione delle quote in Fidi Toscana di arrivare anche a un rilancio di Fidi Toscana mediante l'accessione di quote a investitori privati che ne rilancino la mission e inseriscano Fidi Toscana in un programma di sviluppo della regione che però sia differenziato da quello di sviluppo Toscana. Del resto la legge Madia ma anche la Corte dei Conti impone che non ci sia una duplicazione di società partecipate che svolgano la stessa funzione e quindi la programmazione regionale si è orientata nel riconoscere da una parte in sviluppo Toscana la società in house che dovrà curare in maniera complessiva e generale lo sviluppo economico della regione e dall'altra parte distinguendo le funzioni, la mission e anche la compagine societaria di Fidi Toscana. Questa modifica del piano di razionalizzazione delle partecipate si completa con un richiamo a Carrarafiere SPA rispetto alla quale si auspica un'intensificazione del monitoraggio sull'andamento aziendale ma soprattutto si comporta la necessità di una revisione del piano industriale che sia maggiormente in linea con le potenzialità di sviluppo dell'ente. Ci domandiamo come un soggetto privato possa investire 20 milioni di euro e nutriamo forti dubbi sul futuro della società, affermato il consigliere Casucci. Ci domandiamo quale sarà il soggetto imprenditoriale in grado di mettere 20 milioni di euro per una società che farà soltanto garanzie a digestione delle garanzie. Ecco, sostanzialmente noi siamo molto perplessi che possa andare avanti una situazione del genere e che possa esserci un futuro rosio per Fidi Toscana. Il sviluppo Toscana dovrà essere invece la società che prenderà il posto di Fidi. Abbiamo anche delle perplessità per quanto riguarda anche la partecipata di internazionale Marmi e Macchine di Carrara. Ovvio perché ci sono degli scostamenti significativi rispetto al piano industriale 2021-2024. Ma è soprattutto il sistema fieristico che ci mette veramente in preoccupazione perché ogni anno si perdono delle risorse che vanno ricoperte con i soldi dei toscani e non vediamo una visione chiara da parte della Giunta per rilanciare il sistema fieristico così come il settore termale. Per Elisa Tozzi il piano industriale non esiste, gli investitori ancora non ci sono. Sarebbe opportuno, ha concluso la consigliera, adottarsi di una complessiva rivisitazione delle società partecipate, poiché ad oggi l'elemento che balza agli occhi è la profonda incertezza. Certo è che mentre con l'operazione di Fidi.naus le risorse per questa operazione erano certe oggi noi facciamo un salto nel buio. Anche la prospettiva di sviluppo toscana che dovrebbe essere rafforzata come agenzia di sviluppo oggi è totalmente piena di interrogativi. Tra l'altro interrogativi che sono riproposti anche con forza nelle stessi atti della Giunta, nelle stesse osservazioni che sono state fatte ai piani industriali. C'è un cronoprogramma che noi riteniamo presenti, forti, non dico lacune ma quantomeno delle forti discrasie. Un piano industriale di Fidi Toscana che dovrà essere ancora approvato, un CDA chiamato a ridurre i costi. È una situazione estremamente complessa che dovrebbe vedere forse anche un maggior coinvolgimento del Consiglio regionale. La sensazione invece è che molto spesso alcune decisioni, soprattutto quella che riguarda le possibili manifestazioni di soggetti privati che dovrebbero diventare soci di maggioranza di Fidi Toscana e quindi anche rilanciare la società, ad oggi non si vedono. Quindi tantissimi interrogativi. Il problema rimane che oggi abbiamo una società che continua però a richiedere esborsi di risorse pubbliche. Quindi tempi e modi ci lasciano fortemente perplessi. Francesco Torselli annunciando il voto contrario del proprio gruppo ha espresso alcune forti preoccupazioni. In primis la possibile perdita del controllo della società da parte della regione, la difficoltà da approvare entro la data del febbraio 2023, termine previsto per la cessione di Fidi del rendiconto 2022, nonché l'enorme discrezionalità lasciata alla giunta regionale. Il voto di Fratelli d'Italia sul piano di razionalizzazione delle aziende partecipate della regione toscana è stato un voto contrario e semplicemente motivato da due aspetti che non ci convincono per niente. Il primo è la totale discrezionalità lasciata alla giunta e ai soci privati di valutare le eventuali offerte che potrebbero arrivare per l'acquisizione di Fidi Toscana. Non c'è scritto da nessuna parte un criterio oggettivo finanziario in base al quale un'offerta dovrebbe essere valutata congrua o meno. È lasciato tutto alla discrezionalità. E permettetemi, la giunta regionale, due anni fa, la giunta in pectore sosteneva la necessità di trasformare Fidi Toscana in una società in house, un anno dopo è arrivata dicendoci che la vuole vendere, non mi sembra che abbiano proprio ben chiara la rotta da seguire, così tanto da poter rilasciare la discrezionalità di valutare le offerte. Il secondo aspetto è che c'è un tecnicismo in uno degli allegati che prevede la vendita di un pacchetto di azioni di maggioranza, di un pacchetto di maggioranza misto pubblico privato, nel quale la regione si riserva di avere un minimo del 10%. Questo tradotto che vuol dire? Vuol dire che noi potremmo arrivare a vendere sì il 50, il 60, il 70, l'80% di Fidi Toscana, ma alla regione venderne soltanto un 10%. Quindi potrebbe succedere per assurdo che la regione toscana si potrebbe ritrovare un domani ad avere Fidi Toscana ancora di proprietà, ma avendo perso ogni possibilità di determinarne le scelte. Quindi tenendosi soltanto il male, ovvero una società svuotata di obiettivi, di compiti, però al tempo stesso dove non essersi liberata delle azioni di proprietà. Per la consigliera Galletti manca una visione generale sul tema partecipate. La riorganizzazione delle partecipate è un passaggio non solo economico-finanziario della regione, ma che detta gli aspetti strategici. E dal punto di vista delle strategie che la regione toscana ha in mente per il futuro manca ancora il piano strategico regionale, che è un documento che deve essere proposto a inizio legislatura, che dovrebbe essere anche il documento fondamentale che fa capire quali sono le nostre intenzioni nei confronti delle partecipate della regione, del loro ruolo, della loro funzione, cosa potenziare e cosa eventualmente dismettere. La questione di Fidi Toscana, ad esempio, credo che sia stata gestita in una maniera non corretta, perché prima si è dato un certo indirizzo nel corso di questi cinque anni, nell'ottica di un in-house, quando invece adesso le prospettive che sembrano aprirsi sono completamente diverse. Ecco, questa mancanza di una programmazione e di una linea di continuità ci preoccupa molto. L'antifascismo, valore fondante dell'azione regionale Nello statuto della regione toscana ci sarà un forte richiamo all'antifascismo e alla promozione della memoria della resistenza. La proposta di legge in prima lettura è stata approvata all'unanimità. Come ha precisato il presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani, la legge intende inserire nello statuto una protezione della democrazia, delle libertà e della convivenza civile. E in particolare nei principi generali viene rilevato l'antifascismo come principio costitutivo dell'ordinamento regionale. Io sono orgoglioso del voto dell'Assemblea legislativa. All'unanimità si è sancito qualcosa che è nella storia della nostra regione. La Toscana è terra antifascista. Con questa prima votazione inizia l'iter per inserire tutto questo all'interno dello statuto, della carta costituente dei cittadini e delle cittadine toscane. La Toscana è tutto questo ed è rappresentato anche attraverso il suo simbolo, il Pegaso Alato, che era il simbolo del Comitato di Liberazione Nazionale. La Toscana è sempre stata dalla parte giusta della storia, la parte dei diritti, la parte dell'accoglienza e la parte dell'essere terra antifascista. Vittorio Fantozzi ha presentato un emendamento per completare e attualizzare una proposta che ha massima importanza ma risente un po' di vaghezza. Credo ha spiegato sia necessaria la promozione di una cultura della memoria condivisa, non solo riconducibile all'antifascismo. Secondo il consigliere regionale occorrerebbe infatti indicare tutte quelle esperienze che hanno privato l'essere umano delle proprie libertà. Noi abbiamo convintemente lavorato sia in commissione e chiaramente poi con un voto a favorevole in aula l'adozione di questa modifica statutaria. Abbiamo al tempo stesso però voluto capire, attivando una presentazione di un emendamento, il dibattito in aula, per capire se c'era la volontà sostanzialmente di fare un passo avanti, di fare quello che il Parlamento europeo nel settembre del 2019 con una mozione unitaria ha sostanzialmente portato all'attenzione di tutti i paesi d'Europa quella che è una battaglia invece di principio sull'antitotalitarismo. Cioè volevamo capire se era possibile arrivare direttamente a un principio che sembra smisconosciuto ancora in quest'aula, dove sostanzialmente si va a condannare qualsiasi forma di proibizione della libertà, di discriminazione, di persecuzione fatto salvo alle esperienze nazionali di antifascismo, di anticomunismo che ogni paese europeo ha conosciuto nel periodo che intercorre tra il 1917 e il 1989 ma l'abbiamo fatto senza esito. Si è cercato di innescare un dibattito d'ordine ideologico molto molto triste, molto molto anche parcellizzato con riferimenti e contesti che appartengono sostanzialmente a tutti come a tutti appartiene nella radice antifascista su cui si basa la nostra Repubblica e chiaramente è così sancita nei testi della nostra Costituzione ma volevamo cercare di far capire che probabilmente oggi la questione per essere compresa a livello globale andasse sostanzialmente presa nell'ottica di condannare invece il fenomeno nella sua complessità. L'antitotalitarismo non è soltanto antifascista o anticomunista, assume forme diverse ma sostanzialmente quest'Aula molto probabilmente voleva operare in tutt'altra direzione. Di valori fondamentali ha parlato il consigliere Scaramelli. I valori dell'antifascismo, i valori della resistenza sono dei valori fondamentali per la Costituzione italiana lo devono essere e lo sono da oggi anche per lo Statuto della Regione Toscana due principi fondamentali che devono accompagnare il nostro agire e la nostra azione di registrazione può essere un dato scontato ma non lo è il fatto che abbiamo voluto modificare lo Statuto e inserire questi principi all'interno della Carta fondamentale della Regione Toscana con il nostro voto e il nostro sostegno a questa iniziativa vogliamo fare una scelta di campo netta che però unisce la Toscana, unisce i valori democratici e fa di questa terra un punto di riferimento di valori fondamentali che devono guidare il nostro giro ricordare, segnare nello Statuto della nostra Regione questi valori è un elemento costitutivo che impegna tutti noi nel promuovere e nel difendere le nostre libertà il momento in cui la guerra e i totalitarismi hanno dimostrato che insomma quello che è successo soltanto 50-70 anni fa non può essere dimenticato. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!